L'unico modo per scoprirlo è trovare il tesoro della principessa! Magari il tesoro lucevera è sepolto sotto la montagna! Il faretto! Chiamiamolo faretto! Camioncino 9! Cosa si fai qui? Uh, allora funzioni! Fantastico! Mi sei mancato, amico mio! Sta parecchio di gelato ma non è un gelato! Con un gusto eccezionale perché ha un gusto che è spaziale! Scampato per un soffio da una guerra interstellare! E al negozio sotto casa adesso è andato a stare! Cookie Cat! È l'amico del pancino! Cookie Cat! Ha un gusto sopraffino! Cookie Cat! Ha lasciato la famiglia! Cookie Cat! Ora è disponibile da Garbin, statale 109! Sono cambiato! Eccolo il pezzo finale! Ho imparato dalle mie sofferenze e sono cresciuto! Ora ho capito! Non solo ho dimenticato i poteri da Gemma, ma questa storia del vivere felice mi ha fatto dimenticare il potere più prezioso! Il potere di cambiare! Ma andiamo ragazze! Abbiate più fiducia in Hop Hop! È incastrata! Ma che? Un pozzo di fuoco? Questo è l'opposto di una piscina! Perché Hop Hop? Perché? Ho le braccia! La resistenza! Ho le gambe! Ho la capacità polmonare! Ho le gambe!